La provincia di Torino è una delle otto province della regione Piemonte, territorio posto a nord-ovest della penisola italiana a confine con la Francia. In questa realtà troviamo quattro importanti comprensori di produzione di vini di qualità, il Canavese, il Pinerolese, la Valle di Susa e la Collina Torinese. La vitivinicoltura della provincia di Torino costituisce la quarta espressione piemontese in termini di superficie e vino prodotto e la quinta in Italia per superficie coltivata in territori montani. In questi ultimi anni, grazie ad un'attenta e incisiva opera dell'amministrazione provinciale che ha ridisegnato il panorama locale dei vini a denominazione di origine controllata, questo settore ha saputo esprimere qualità e professionalità tali da cogliere nuove e importanti opportunità dentro e fuori i propri confini. Circa mille viticoltori, cinque cantine sociali cooperative, 52 aziende produttrici che esprimono un proprio marchio, quattro consorzi di tutela, una federazione fra consorzi, 25 vini a denominazione di origine controllata, circa 2.800 ettari di superficie e una produzione di 150.000 ettolitri di vino sono gli indicatori di un comparto fortemente dinamico e cosciente delle proprie possibilità di crescita e sviluppo in cui l'esportazione rappresenta circa il 20% dei vini di qualità certificata, soprattutto verso paesi come la Germania, gli Stati Uniti e il Giappone. Protagonisti e ambasciatori della nostra vitivinicoltura di pregio nel mondo sono l'erba luce di caluso, il caluso passito, il caluso spumante, il carema e la fresa di chieri, a cui di recente si sono affiancate le nuove denominazioni di origine canavese, collina torinese, valsusa e pinerulese, prodotte negli omonimi territori che comprendono 177 comuni della provincia di Torino.